Fra i 72 e i 68-67 milioni di anni fa, una mamma oviraptor perse tutta la sua covata di uova perché una frana di fango e detriti la coprì del tutto. Di tutte quelle uova coperte, una in particolare conservò il suo embrione di oviraptor all'interno perfettamente, in un modo che gli scienziati non avevano mai visto. Il piccolo oviraptosauro era rannicchiato in una posizione che gli scienziati chiamano rimbocco e che è tipica degli uccelli. Le zampe anteriori e posteriori avvolgevano la testa, lo possiamo vedere qua sopra, esattamente come fanno gli uccelli oggi. Il piccolo embrione è stato ribattezzato Baby Yingliang ed è stato scoperto in Cina. È un po' triste ma la morte di questo dinosauro qui, circa 70 milioni di anni fa, ci consente di comprendere meglio l'evoluzione dei dinosauri non aviani e aviani nel corso del tempo.